Il 15 di maio 1768, il secondo trattato di Versailles è firmato tra Genova e il ministro Choiseul, che rappresenta il re di Francia. Qui d'ultimo, ti ho dritto da guantare a Gorzica, proprietà di Genova, sinché da paghesse a Repubblica di Nuuesa un debito importante. A risposta di i nazionali Gorzi, partitenti di General Pauli, e a mobilizzazione di un'armata di 20.000 soldati, tani in faccia a Edi, 30.000 uomini a servizio di Avrancia sotto l'ordine di un marchese di Chauvelin. I battagli principiano il 30 di luglio di 1768 in Dunnebio e in Capigurzu. I nazionali soddisfatti in Bigulia, poi in Oletta. Un noi d'utroi, a fortuna passa, e tocca ai soldati francesi a batti ritirati in Casinca, in Dunnebio e in Borgo, dove da feci 600 morti, mili viriti e 600 prigionieri a battaglia. De Chauvelin è dimesso, e rimpiazzato da un marchese de Vaux, che conosce a Gorzica. Ci ha combattuto in du 1739 e du 1757. Tocco 1769, ed ha lampa un'offensiva cuun 45 battaglioni di 500 uomini, quattro reggimenti di cavallaria, e un'artiglieria moderna, con canoni detti gribovalle, che poni tirà due a quattro colpi ogni minuto, cu una precisione sino a 1200 metri. Tirano i padoni di due, quattro o sei chilo, ma di uno scattoli a mitraglia, che esplosano i fendupi o appadini, nant'a una superficie di 400 metri quadrati. I nazionali, che tanno i suoi quartieri di Nerali e Murato, facciano tre linee di difesa. A prima, è nanta a grista di Tenda, curando il nebbio, lo strigone, il gollo, la marana, il balonga e il brando. A seconda, è nanta il viume gollo, da un ponta a Lecce, sino a un lao benedetto. A terza, è a linea di uviumi vecchio. Sfondata a cuista, l'Itucaria lascia l'isola scappando par Ghisoni, uvium orbo e porti vecchio. U tre di maio, doveu attacca. U marchesi de Marboeuf, forza Raffaele, a scappa da bogo, ma li tocca piantà, che un po' franca a gollo, difeso dai gozi. Si porta tanto in ortale. D'Arcambale vince in Rappale e marcia sino a Bocca San Diacomo. De Vaux, non t'ha due golloni, attacca Paoli in Murato e all'istesso tempo assalta i bocchi di Lento e Canavaglia. Paoli si ripiega. I nazionali resistani e facciani rinculare cinque volti francesi. U sei di maio e giorno zoio. U seti di maio, doveu piglia i bocchi strategici di Lento e di Canavaglia. A tempo, Grimaldi fiasca e lascia D'Arcambale o passati di San Diacomo. La prima linea gorsa è incuzzata. I gorsi rinculani non t'ha seconda linea qui da chi difende il passaggio da golo a Ponte Nuovo. L'otto di maio i gorsi codani verso lento, spirando di ripigliare posizioni, persi o iornunanzo. L'artigliaria francesa i vacci rinculare, falla nitando in Ponte Nuovo. All'entra di un ponte si trovano i mercenari prussiani e a milizia a lugare di gentili. Taviano l'ordine di un lasciapassare animo. L'ordine, malcapito, sbocca nanta un macedo di nazionali dai sovrati di combattu. Di più, un sbagliottamento faccio che i gorsi non sondate a tena a cudetta che sopranesce un luogo. I francesi, ed, non si ne scordano. Presi tra due voghi, i nazionali che rinculani si lampano in golo da prua di orca verso l'altra sponda. Altri sono stufati, calcigati, inciaccati dai gumpani che cercano di franca i fiumi passando i po' i ponti. Un'ipoga li vacci ne ha passato all'altro ganto. Paoli guarda la battaglia da lontano. Accanto a Edu, Gian Lorenzo di Petrigoni parla di già di una disfatta sanguinosa e i rinforzi di Gaffori ungiugnini. Malgrado la ruisimo e la prova di controfinzio di combattenti corti, sono in l'obbigo di rompere i ranghi e di pigliare la macchia. La battaglia face duecenti morti per i nazionali e 60 per i soldati francesi. Uttinati Gion Maria Lucca Rotti d'Ortiporio Firitube di acce non tra un campo di battaglia. Ci stimogliati a Dio scompianto. Tocchi primori di Ammane mi svegliai l'anima e ugo raffanate e mi trovai con il braccio manco pindulone insanguinato e carco di ferite a mezza a manza di caddaveri e di tanti che erano parmora e che chiamavano a usugorzo. Mi strascinai l'antò un monte e fidulando verso il ponte vidi un spettacolo tremendo. I morti erano accatastate a centenai l'antò passaggio stretto e fidulando di più a lontano ne vidi a tanti e tanti stesi e privi di vite tra i muretti di uvozzo e bagnando in duso sangue. Sarai l'occhi e mi intesi scurà e in ogni luogo si sbardia il silenzio di a tomba. Il general Paoli può un'ultima difesa in una terza linea qui da un'antà vecchio. Ma ha disfatti di già in tutti i menti. Paoli si franca a Gorsica ad essere imbarcato dall'inglese e accompagnato da una centinaia di partitenti. 10 i francesi occupano a Vignale Luciana e Petralba 15 franca a Gollo e pigliano il convento di Rustino 20 sono il convento di Messa e 21 marchano in Antacorte a Capitale. A mezzogamina trovano i Gurtinesi venuti da Sottomettasi e a Vignale di un Regno di Gorsica che campò 14 anni. Paoli è imbastellica au 6 di Iugno poi in Quenza l'8 e i francesi un cercano di pigliarlo. Devo dicettando sa capture utette più embarrassante che util. Giunti in Portivetti imbarca Pasquale Paoli in un taubatete dell'amirale inglese Smithoy accompagnato da Uvrate do Clemente da uso segretario l'abbate Antone Francesco Andrei e da un'epoca di partitenti dei più vicini. Dopo di essere stato ricevuto dai ricchi vammili di Gurtinesi di Tuscana si ritirà in Londra semi due mesi dopo la battaglia. Ponte No ferma la battaglia commemorata dai Gurtinesi ma non è stata l'ultima. Dopo questo macedo i Gurtinesi si battì in tre giorni e due noti non t'avete. Tensi n'egusi armati di Cultede di Coraggio a uno contra dieci non sude sin l'obligo di far ritirati in Bivario e Venaco due difuni dispatti. di Stabataglia Voltaire L'arme principale des Corses c'était leur courage. Ce courage fut si grand que dans un de ces combats vers une rivière nommée Golo ils se firent un rempart de leurs morts pour avoir le temps de recharger derrière eux avant de faire une retraite nécessaire. Leurs blessés se mêlèrent parmi les morts pour affermir le rempart. On trouve partout de la valeur mais on ne voit de telles actions que chez les peuples libres. Sous-titrage